Fermo, si 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 si, davvero fermo, vuoi Wubuck vero? Ti ho scoperto Wubuck, non devi abbandonare questo video se li vuoi davvero Non sto scherzando, continua a guardare il video e non schippare nemmeno una piccola parte Devi, per ricevere un codice, condividere con almeno dei tuoi 10 amici Questo video dovrà arrivare a 10 like Ora tra 5 secondi devi lasciare un bel like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Bravissimo che hai lasciato un bel like E ora l'ultimo step da fare è iscriverti e dimettere il codice nel negozio dei tuoi forti Ti supporto un cadore coding gamer 582 Quindi lasciando il tuo 10, se hai condiviso con 10 persone Hai lasciato un bel like con l'iscrizione Riceverai un regalo